Mamma mia signorice, sto gioco mi fa piacere che vi piace così tanto Io ne vado onorato, perché come Devil May Cry, come tanti tanti giochi Ci innamoriamo, e ragazzi è così A me dispiace dirlo, anzi no, non mi dispiace dirlo Altro quei cazzo di giochi stupidi Perché ragazzi per me sono giochi stupidi quelli free, che ne so A me, ragazzi, io ve lo dico con sincerità e col cuore in mano Cat Mario, tutti quei giochi free stupidi A me non mi piacciono, cioè a me quando la gente mette nei titoli Il gioco più epico del mondo e poi vai a vedere una merdata Non mi piace, cioè non mi piace, non mi piace proprio, ragazzi Cioè se io quando scrivo nel titolo epico, spettacolare Eh ragazzi, perché veramente ne vale la pena, cazzo ragazzi Ma veramente, io sono orgoglioso di voi, sono orgoglioso di voi perché Se voi andate a vedere e dovete essere sinceri Noi, cioè CiccioChamer89, cioè io È l'unico canale, l'unico youtuber che porta a sti giochi e lì continua Cioè anche se le visualizzazioni mi si calano perché poi magari man mano perde un po' di interesse Ma sti cazzi Perché se no se io facessi solo Minecraft, FWills, Cat Mario, tutti quei giochi deficienti Uh, a visualizzazioni, ma non è quello lo scopo di un youtuber Non è quello, chi fa, chi lavora in quella maniera secondo me lavora male Secondo me lavora male e là lavora per le visual, non per intrattenervi Ragazzi, almeno questo è un mio pensiero, eh E mi farebbe piacere che commentasse qua sotto con il vostro pensiero Perché mi piace leggere i vostri pensieri, quello che pensate, se c'ho ragione, se non c'ho ragione Mi piace, mi piace da morire, mi piace davvero tanto Grazie